In questo video ti parlo delle regole dell'abbondanza, tratte dal libro Denaro e Amore di George Briata. Nel momento di dare, ciò che non vuoi dare per avidità, moltiplicato e con forza, ti viene sottratto. Ciò che scegli di dare con gioia, rafforzato e moltiplicato, ti ritorna. Nel momento di ricevere, per ciò che non vuoi dare, ti ritorna. Per ciò che rifiuti credendo di non meritarlo, avrai altre perdite a causa della stessa errata convinzione. Per ciò che accetti con gratitudine, avrai altri doni per la stessa capacità di apprezzare. L'abbondanza è un fluire di cui spesso ignoriamo le regole, ma l'universo sa perfettamente quando è il momento migliore per la semina e quale per il raccolto. Quando ti viene chiesto di dare, semina benedicendo quello che da te esce. Quando ti viene chiesto di ricevere, raccogli con gratitudine. Questo è tutto ciò che ti serve sapere per coltivare abbondanza.